Musica Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Il giorno dopo l'incendio che ha portato la morte del bambino di 5 anni a Pinzano al tagliamento, la comunità si stringe attorno alla famiglia e il sindaco proclamerà il lutto cittadino. E oggi sono stati eseguiti i sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei carabinieri per determinare le cause del rogo. È stato un amaro rientro quello del padre del piccolo Abdul Lugmane Bambore, il bambino di 5 anni, cittadino italiano originario del Burkina Faso, rimasto vittima di ieri dell'incendio scoppiato in casa a Pinzano al tagliamento. L'uomo, che si trovava in Africa, doveva tornare proprio oggi e all'arrivo non ha potuto riavbracciare il piccolo Abdul. Il rogo si era sviluppato ieri pomeriggio nell'abitazione di proprietà della famiglia, composta dai genitori e sei figli, che ha subito ingenti danni. In casa c'erano i due fratelli maggiori della vittima, i quali, non sapendo che il fratellino dormiva nella sua stanza, sono usciti subito all'aperto, pur rimanendo feriti. Uno è rimasto intossicato dai fumi, l'altro, buttatosi dalla finestra al primo piano per scampare alle fiamme, si è procurato anche alcune fratture. Entrambi sono ricoverati all'ospedale di San Daniele. In aiuto del piccolo Abdul era intervenuto un vigile del fuoco, che è entrato nell'abitazione sfidando le fiamme e riuscendo a portare fuori il piccolo. Ma il monossido di carbonio respirato dal bambino, che poi è deceduto all'ospedale di Spilimbergo, è stato fatale. Gli altri familiari, non potendo rientrare nella casa devastata e posta sotto sequestro dalle autorità, sono stati ospitati dalla comunità del Burkina Faso di Pinzano. Anche il sindaco del paese, Emanuele Fabris, aveva dato disponibilità ad accogliere la sfortunata famiglia. Papà un anno fa ha ottenuto la cittadinanza italiana e quindi tutti quanti i minori. Comunque sono persone conosciute in paese che hanno un certo ruolo all'interno della comunità. Sono andato a far visita ai fratelli che sono abbastanza sconvolti. Fabris ha anche annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino. E oggi c'è stato il sopraluogo dei vigili del fuoco e dei carabinieri per raccogliere informazioni, così da fare luce sulle cause dell'incendio. Sul corpo dello sfortunato Abdul sarà eseguita l'autopsia. Hanno provato in tutti i modi a salvare il bambino, ma alla fine si sono dovuti arrendere. I vigili del fuoco che sono intervenuti ieri sera hanno raccontato quei momenti con gli occhi lucidi. Quando siamo giunti sul posto abbiamo trovato una persona a terra, parzialmente ustionata. L'incendio era localizzato soprattutto nella parte interna del cortile, quindi nel retro dell'abitazione. Abbiamo portato primo soccorso alla persona a terra, poi è arrivato il 118. Abbiamo cominciato ad abbassare la temperatura di 4-5 bombole del gas che c'erano nel cortile interno. molto surriscaldate, poco dopo sono arrivati dei rinforzi da Pordenone e da Maniago. Una signora di corsa, una signora di corsa che cercava un bambino, non vedendolo tra la folla. Ha ipotizzato che sia ancora all'interno dell'abitazione. Quindi abbiamo interrotto le fasi di spegnimento e abbiamo iniziato le fasi di ricerca di questa persona. Siamo entrati nell'abitazione, muniti di termocamera, che è un attrezzo che ci fa avanzare nel fumo, intravedendo bene le immagini. All'interno di una stanza, sotto un letto, si è intervisto il piede di questo ragazzino, di questo bambino. Il mio collega, che era insieme a un altro, l'ha raccolto, l'ha preso in braccio e l'ha portato fuori, attraverso una scala che avevamo posto al ridosso della finestra. Una volta che l'abbiamo portato fuori, abbiamo consegnato il 118. Poi siete abituati, non ci si abitua mai, ma ogni giorno a essere su teatro di disgrazie. Purtroppo persone che soffrono, persone che stanno male, però forse per un bambino il dramma, se è possibile, è ancora peggiore? Per un bambino penso che l'emozione non passi mai. Mai affrontare una giovane vita che se ne va, soprattutto per un padre, per un nonno, in questo caso, sia difficile. Ma per tutti noi, per tutti i pompieri, penso che nessuno si abituera mai a questo. Non solo il nostro mestiere, anche il 118, anche altri. Voltiamo pagina. I carabinieri di Portogruaro hanno arrestato un cinquantenne del luogo, perché ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia aggravati e continuati. Ad aver permesso di far luce sulla vicenda familiare, dove risultano vittime non solo la moglie dell'uomo, ma anche i loro figli, le indagini condotte dai militari di Portogruaro, coordinati dal pubblico ministero di Pordenone, Andrea del Missier. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire un quadro familiare connotato dall'atteggiamento irrascibile e violento dell'uomo, peraltro sistematicamente dedito all'uso di alcolici, che da oltre un decennio aveva provocato nella moglie e via via anche nei figli uno stato di soggezione e paura. Una paura poi sfociata in una richiesta di aiuto ai carabinieri. In base all'inchiesta, il GIP di Pordenone ha così emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. Ancora cronaca, un incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 251 all'altezza di San Leonardo Valcellina, dove un'auto è uscita autonomamente di strada. Un vigile del fuoco che aveva smontato dal servizio è stato il primo a giungere sul posto e ha prestato i primi soccorsi all'uomo alla guida, un 36enne che nel frattempo era già uscito dall'abitacolo. I vigili del fuoco di Maniago, arrivati poco dopo sul posto, hanno aiutato il collega ad assistere l'infortunato e a mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto anche l'elisoccorso e i carabinieri di Monte Reale Valcellina per i rilievi di legge. Il ferito è stato portato in ambulanza all'ospedale di Pordenone. A dieci anni dalla morte di Eluana Inglaro si riaccendono i riflettori sul tema del fine vita. A Pordenone dal 2015 è possibile stilare il testamento biologico. A spiegare modalità e adesioni è il segretario comunale di Pordenone, Primo Perosa. L'interesse è abbastanza elevato. Il mio ufficio riceve diverse telefonate settimanali, nel corso del 2017-18 centinaia all'anno. Poi le persone che hanno chiesto l'appuntamento sono state un po' meno, però in questo momento ne abbiamo, come dicevo, un centinaio lo scorso anno fra quelle ricevute del notaio e quelli che hanno depositato spontaneamente e abbiamo 70 persone in lista d'attesa in questo momento, prevalentemente di Pordenone, ma anche di altri comuni che aderiscono all'area di competenza del Tribunale di Pordenone dove può operare il consiglio notarile. Quello che noi consigliamo è scaricarsi le istruzioni del consiglio notarile che sono molto dettagliate, molto equilibrate e anche la modulistica e poi confrontarsi con la modulistica col proprio medico di famiglia o un medico di fiducia che può aiutare a farci capire questi aspetti di dettaglio sulla tipologia e le situazioni in cui si può venire a trovare nei casi di incapacità di intendere volere in seguito di incidenti o malattie gravi. Quindi il medico può aiutare a compilare e quindi a rendere più consapevole la scelta. Fermo restando che poi la decisione finale, nel caso disgraziato che si debba attuare, verrà attivata dai preposti individuati, quindi fiduciari, che devono essere individuati le persone fiduciarie che poi ritireranno, quindi devono essere informate di questo, ritireranno la disposizione e poi si rivolgeranno ai medici e al giudice tutelare che prenderà la decisione finale sulla base della volontà espressa e sulla base delle valutazioni mediche dei collegi medici. E proprio al ricordo di Eluana e al tema dell'eutanasia è dedicata la puntata di questa sera di Eletroshock, dopo il nostro telegiornale. Ci spostiamo a Sacile, dove il passaggio a livello in Viale Lacchin è al centro di un importante progetto. Il tempo per il passaggio a livello di Viale Lacchin a Sacile è segnato. Comune e RFI stanno gettando le basi per chiuderlo definitivamente e contemporaneamente dar vita a un sottopasso ciclopedonale che collega le due zone cittadine divise dalla ferrovia. Nel contempo, come spiega l'ex sindaco Roberto Ceraulo, oggi assessore ai lavori pubblici, sarà creata una viabilità alternativa per gli automobilisti. Io sono stato sindaco fino a gennaio dello scorso anno e naturalmente l'attuale sindaco Carlo Spagnaolo sta continuando questa azione martellante nei confronti delle ferrovie dello Stato, della gestione della rete, perché questo passaggio a livello venga regolato in maniera più adeguata. Con RFI sappiamo già, hanno già anticipato, anche se non abbiamo ancora formalizzato questo patto, assumeranno in carico a loro onere la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale qui dove siamo noi in questo momento. Il traffico veicolare invece sarà dirottato, sarà distribuito con la Gronda Est, che è una viabilità sulla quale il Comune si sta impegnando da diversi anni. L'assessore indica anche costi e tempi. Non abbiamo ancora il progetto, adesso con la prossima settimana sarà siglata la terza appendice a queste convenzioni storiche che regolano i rapporti tra Comune e RFI e triangolata anche naturalmente dalla Regione. Con questa terza appendice RFI potrà utilizzare dei soldi ancora giacenti per affidare il progetto. Però a naso, sa, a spanne, parliamo di 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro. Tempi di realizzazione 2 barra 3 anni. Oltre al sottopasso è previsto anche un nuovo parcheggio. Quel fabbricato che si vede sullo sfondo è stato acquisito da LSM, che è l'Ivenza Servizi Mobilità, società strumentale 100% comune di Sacile. E quindi lì, oltre alla sede della società, ci sarà anche nel capannone la possibilità di intercettare le rampe di risalita e magari per le biciclette e i motorini, che sono quelli naturalmente che hanno maggior difficoltà nel realizzare tragitti più lunghi. Domani è il giorno di San Valentino e per l'occasione Poste Italiane mette a disposizione le cartoline per gli innamorati. Si possono trovare anche a Pordenone, a San Vito al Tagliamento, a Sacile e a Spilimbergo. Una cartolina per dirsi ti amo. Poste Italiane, come ogni anno, celebra la festa degli innamorati e lo fa anche questo 14 febbraio dedicando a San Valentino quattro cartoline filateliche raccolte in un cofanetto personalizzato. Per tutti gli innamorati che non sanno ancora come esprimere il loro amore durante il giorno a loro dedicato, questo è sicuramente un modo originale per farlo. Le cartoline di Poste Italiane sono colorate e animate, nello stesso stile di quelle create per la festa dell'anno scorso, in modo tale che tutti quelli che hanno acquistato il cofanetto dell'edizione precedente potranno dare seguito alla collezione, acquistando i nuovi quattro esemplari ideati per il 2019. Sarà possibile acquistare il kit filatelico negli uffici postali di Pordenone, Sacile, San Vito e Spilimbergo fino al 16 febbraio, ma è meglio affrettarsi per poter permettere in caso di spedizione a Poste Italiane di far arrivare le cartoline d'amore fino alla persona amata. Dal nostro telegiornale è tutto, ci vediamo domani alle 20.45 e ora a linea a Elettroshock. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie per essere stati con noi e buona serata.